ciao sono Michele Tuveri brand ambassador di high waste distillery e ora degustiamo double rye questo whisky è stato il primo a essere prodotto nella distilleria di high west ed è diventato l'icona della nostra del nostro brand è un whisky molto versatile ed è un blend di due diversi whisky di segale quindi rye uno è un po più giovane intorno i tre anni è uno un po più vecchio di sette anni sono entrambi invecchiati in botti di rovere bruciato quindi carbonizzato a livello 4 che è uno dei livelli più più avanzati diciamo questa carbonizzazione ci permette di ottenere un prodotto che è molto filtrato dal carbone è molto morbido ed è molto bevibile è molto bevibile è morbido al palato però allo stesso tempo grazie a uno dei due whisky che è un po più giovane anche una certa piccantezza una certa speziatura ora degustandolo potete notare immediatamente le tipiche note di caramello e vaniglia date dal rover americano però sul sul fondo del palato iniziamo a sentire anche la cannella iniziamo a sentire il cioccolato il caffè e poi sulle labbra un attimo dopo averlo sorseggiato sentirete proprio una certa piccantezza questo è dato dal segale e dalla segale giovane in particolare questo prodotto ha avuto un grandissimo successo negli stati uniti e il whisky che sta crescendo di più anno dopo anno e questo perché è ottimo bevuto da solo quindi o con con un goccio d'acqua con con del ghiaccio come piace a voi oppure semplicemente liscio però può anche essere utilizzato nei cocktail e anche se ci sono un po' di più e anche se ci sono un po' di più